Questo è il compito del 1o marzo 2012. Qualcun esercizio. Modo z quadro uguale z più 3 più i. Proviamo con la sostituzione di z in forma alcebrica. Quindi otteniamo a quadro più b quadro. Quindi z è la forma a più b uguale a più 3 più i più i. Se preferite a più 3 più i per i. Quindi questo è un numero reale, positivo, non negativo. Questo è un numero alla parte immaginale. Quindi la prima cosa che si ottiene è che b più 1 deve fare z. E poi che a quadro più b quadro è uguale ad a più 3. Ora sostituendo, Cioè dalla prima cosa otteniamo più uguale a meno 1, che possiamo sostituire nella seconda e troviamo a quadro più 1 uguale a 3. Quindi otteniamo l'equazione a quadro meno a meno 2 uguale a 2. Quindi a uguale a 1 meno più a radice di 9 mezzi. Quindi troviamo 1 meno 3 e mezzi fa meno 1. 1 più 3 e mezzi fa 2. E queste sono le entrambe soluzioni di questa equazione. Allora dovremmo avere le soluzioni z1 uguale a meno 1 meno i e z2 uguale a 2 meno i. Proviamo a fare z1 modulo 4, questo fa 2. Z2 modulo 4, questo fa 2. Z2 modulo 4, questo fa 2. Sta apposto, vi verifica l'equazione di potenza. Z2 modulo 4, questo fa 5. Z2 modulo 3, questo fa 5. E qui. L'esercizio è assolutamente molto facile. Era quasi banale. Abbiamo sia calcolato queste due soluzioni sia verificato che effettivamente non abbiamo soluzioni spurie. Non l'abbiamo fatto perché non abbiamo in nessun caso fatto operazioni che introducessero soluzioni spurie. Però una verifica finale. Diciamo che quando mai è brutto. Andiamo a fare... Sì. E' un altro esercizio, però fammi finire in conto. Diciamo, quando abbiamo finito quel compito poi facciamo magari qualche esercizio su richiesta. Allora, secondo esercizio, dobbiamo fare il limite per x che tende al più infinito. Allora, sotto abbiamo arcoseno di x più 1 fratto x cubo più 5. Sopra abbiamo arco tangente di x cubo più 1 fratto x più 3. x cubo più 1 fratto x cubo meno y cubo meno y cubo di montina di campo esponenziale di x cubo più 1 fratto x cubo più 2 meno logaritmo di x cubo più 2. fratta di 2 fratto x cubo più 2 fratto x cubo più 3 non zod�ланje di x cubo più 2 fratto x cubo più 3 non nervoso. Milletto Suconale di x cubo più 2 fratto x cubo più 1. il seno iperbolico di x fratto x quadro 3. Ok, mettiamo il seno iperbolico di x. Ok, cominciamo col denominatore. Allora, arcoseno di x più 1 fratto x quadro più 5. Per le prime volte faccio un po' tutti i passati. Allora, sopra si mette la quantità più grande. Vedete, questo fa 1 su x quadro, x tende a più infinito. Quindi, questo infinitesimo, questo invece tende a 1. Quindi, moltiplicando, viene arcoseno di 1 su x quadro. Più piccolo di 1 su x quadro. Arcoseno di t vale t per t che tende a 0. Più termini di 1 su x quadro. Più piccolo di 1 su x quadro. Più piccolo di 1 su x quadro. Quindi, qua sotto possiamo sostituire. Abbiamo 1 su x quadro. Più piccolo di 1 su x quadro. Poi abbiamo il secondo pezzo. Poi abbiamo naturalmente cominciato dal denominatore perché ci sono solo prodotti. Quindi, non occorre valutare gli infinitesimi di ordine superiore. Qui abbiamo arco tangente di x cubo più 1 su x quadro. Per x che tende a più infinito, questo tende a più infinito. E x cubo, diciamo, smette evidenza su per x smette evidenza su. Quindi, diciamo, x quadro è qualcosa che tende a più. Quindi, arco tangente di qualcosa che tende a più infinito, tende a pi greco mezzo. Quindi, questo è semplicemente pi greco mezzo più piccolo. Cioè, pi greco mezzo più qualcosa che tende a 0. Possiamo sostituire. Adesso, facendo il prodotto, semplicemente, qui abbiamo pi greco mezzi per 1 su x quadro. E poi, tutto il resto è di ordine superiore per 1 su x quadro. Quindi, sostituendo anche questa volta, otteniamo... preferisco scriverlo così che... Vabbè, se scrivo pi greco fratto 2 x quadro è la stessa cosa. Però, diciamo... che mi piace di più spesso. Adesso, dobbiamo andare a sviluppare il numeratore. naturalmente, dobbiamo sviluppare il numeratore fino all'ordine 2. quindi, qui abbiamo... quindi, qui abbiamo... una cotangente di... S quadro più 1 fratto x più 1. Ecco... Sì, però, stavolta dobbiamo... diciamo... eh, dobbiamo sviluppare più termini. Perchè... Perchè... Per quale motivo? Perchè... diciamo... non... non ci basta sapere che altangente tende al pi greco mezzi. Che probabilmente il pi greco mezzi si eviterà. E quindi... se questo pi greco mezzi si eviterà, poi ci interesseranno i termini infiniteschi di ordine 1 e di ordine 2. Allora, come si calcolano? Beh, in realtà... qua... la dovete cavare usando un'identità che abbiamo stabilito, diciamo, durante il curto. E questo è uguale a pi greco mezzi meno l'arcotangente di x più 1 fratto x quadro. Questo è un modo... Se vi ricordate... abbiamo studiato durante il curto la funzione f x uguale al cotangente che chiamiamola f di t. al cotangente di t più al cotangente di 1 su t. Questa funzione è definita per t diverso da 0. E se vi ricordate... f di t valeva... se fate la derivata trovate subito che la derivata era nulla. Fate la derivata... per esercizio vedete che la derivata è nulla. E poi... abbiamo visto che la funzione invece non era costante. ma valeva meno... se t era minore di 0... e valeva più... se t era minore di 0. In realtà non era costante però erano due costanti. se vi ricordate questo è un esempio che abbiamo fatto proprio per capire che... diciamo... che sappiamo che... se una funzione è costante a derivata nulla e il dominio non ha necessità di essere connesso invece se vogliamo che una funzione con derivata nulla sia costante il dominio deve essere... connesso. cioè... per esempio... tutto il fatto... o tutta la retta. in questo caso siccome non era tutta la retta poteva succedere che la funzione non fosse costante e naturalmente su ogni pezzo connesso cioè... sulla semiretta fino a 0... sulla semiretta 0 infinito la funzione veniva costante. però le due costanti potrebbero tranquillamente essere diverse. e qua... provate a metterci 1 e il tangente di 1 fa pi lego 4 e il tangente di 1 fa pi lego 4 e il tangente di 1 fa pi lego 4 fa pi lego mezzi ci mettete meno 1 fa meno pi lego 4 meno pi lego 4 in questo caso per t maggiore di 0 viene a pi grego mezzi allora che vuol dire? che al tangente di t se t è positivo è uguale a pi grego mezzi più al tangente di 1 su t meno al tangente di 1 su t no 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 quindi questo lo chiamate t al tangente di t è uguale a pi grego mezzi meno al tangente di c questo ci permette non solo di individuare pi grego mezzi come limite perchè stavolta x fratto x quadro tende a 0 quindi questo tende a 0 e questo tende a 0 ma siccome noi conosciamo lo sviluppo dell'arco tangente e lo sviluppo di Meclano nell'arco tangente ci permette di anche di sviluppare adesso i termini successivi i termini successivi infatti adesso abbiamo pi grego mezzi meno arco tangente allora qui abbiamo x in evidenza faccio 1 per 1 per x qui abbiamo x quadro in evidenza faccio 1 per 1 per x quadro quindi viene arco tangente ok? allora pi grego mezzi il meno arco tangente ma qua c'è 1 su x che moltiplica 1 più 1 su x più 3 migliori e scriverò 1 su x qua ho leggermente abbreviato però quando tolgo questo denominatore mi verrebbe invece di avere questo al denominatore mi verrebbe la moltiplicazione per 1 meno 1 su x quadro eccetera quando andate a moltiplicare ottenete questo quindi y mezzi meno arco tangente di 1 su x più 1 su x quadro più termini di ordine superiore quindi a mi viene si qua scusate correndo un'altra volta il testo era giusta una cosa apparentemente c'era un errore nel testo lo correi ma poi perché voglio che il limite venga finito allora quindi quanto fa qui adesso y mezzi tutto questo lo chiamate t t tende a 0 quindi avete meno t poi in verità dovrei scrivere che arco tangente di t è uguale a t il termine successivo è meno t cubo terzi ok? ma quando faccio t cubo partendo da questa quantità qui il termine più basso che mi viene viene 1 su x cubo che riesce qua dentro quindi non devo fare altro quindi non devo fare altro arco tangente di t per t che tende a 0 è uguale a t meno il cubo terzi uno b il termine successivo è p la quinta è uguale a t a questo punto chiamate questo t qua avete pi greco mezzi meno t poi t cubo finito quindi qui possiamo sostituire semplicemente pi greco mezzi meno uno su x meno uno su x quadro più o piccolo di uno su x quadro vi ricordate perché non ho cambiato segno a questo? perché meno piccolo di uno su x quadro è uguale a più o piccolo di uno su x quadro questo identifica una generica la funzione infinitesima di O che deve studiare per uno fisico bene adesso dobbiamo per prima cosa sviluppare ciò che sta all'interno della parentesi attenzione qua l'errore scusate se ho corretto ancora il test ma siccome c'era un errore ho questo errore se calchi insomma l'errore stava nel fatto qua c'era x e qua c'era x quadro l'errore faceva sì che il limite non venisse finito se il calido è un problema del genere diciamo non è che viene corretto cioè nel senso il test è quello il limite viene più semplice oddio più semplice per voi non lo so perché comunque vi dovete accorgere che ci sono dei pezzi che non se ne mancano adesso così a mente ho cercato di ho visto che il limite non me ne era finito ho cercato il giustante allora ho provato una O ho fatto dentro insomma l'appresentazione successiva prima ho fatto la correzione qua poi ho visto che non andava bene quindi ho portato quello dentro per togliere un pezzo del primo ordine qua poi mi sono accolto che lo dovevo togliere anche fuori quello l'ho riportato fuori e allora per togliere quello dentro devo fare la correzione in media diversa adesso capirete perché comunque andiamo a sviluppare ciò che c'è scritto in parentesi cominciamo con l'esponenziale esponenziale di x più 1 fratto x4 più 2 allora qui abbiamo l'esponenziale x per 1 più 1 su x tra x4 e 1 più 2 uguale esponenziale x per 1 più 1 su x più 1 su x allora qui avete 1 su x come prima qui anche qui questo termine di ordine 2 comunque non mi serve perché quando vado a togliere il denominatore qua è vero che viene un termine di ordine 2 però qua c'è fuori un termine di ordine 1 in evidenza quindi avremo un termine di infidesse di ordine 3 che non mi serve perché so che posso fermarmi allo sviluppo fine termine di ordine 2 quindi questo permette di semplificare un po' quindi qua mi viene l'esponenziale di 1 su x più 1 su x quadro ecco più o piccolo più 1 su x quadro adesso questo quanto fa? questo come al solito lo chiamate t quindi mi viene 1 più t quindi però lo sviluppo risponenziale anche il termine di ordine 2 fa 1 più t più t quadro mezzi adesso quando faccio t quadro l'unico termine di ordine 2 che viene il quadrato di questo diviso per 2 fatto 1 fratto 2 x quadro questo se volete lo potete lasciare come sta oppure lo potete mettere insieme a questo e fate 3 fratto 2 x quadro 3 mezzi per un fisso quindi andiamo a sostituire abbiamo 1 più 1 su x più 3 mezzi 3 per 1 più più o piccolo adesso andiamo a fare l'altro qui abbiamo l'organismo naturale l'organismo naturale di x più 2 fratto x più 1 allora questo è l'organismo naturale di x per 1 più 2 su x fratto x per 1 più 1 su x quindi viene l'organismo naturale meno l'organismo naturale di 1 più 2 su x meno l'organismo naturale di 1 più 1 su x quindi l'organismo naturale di 1 più t fa t t meno i quadro mezzi poi c'è meno questa volta t è 1 su x quindi diventa più il quadro mezzi quindi in definitiva viene 2 su x meno 1 su x fa 1 su x poi viene meno 3 fratto 2 x più b adesso vado a sostituire quindi poi viene meno 1 su x più 3 e mezzi per 1 su x e ovviamente il meno vinco di 1 su x quadro non lo scrivo perché già ho vinco di 1 su x quadro c'è questo a ok allora qua 1 su x e meno 1 su x se ne va 3 e mezzi e 3 e mezzi fa 3 e va bene questo aggiornamento lo facciamo tutti adesso andiamo a sviluppare l'ultimo pezzo che è il seno iperbolico poi abbiamo sopra x sotto c'è x quadro per 1 più 3 1 su x quadro quindi viene il seno iperbolico di 1 su x quindi quindi più 1 su x più 1 più 1 piccolo di 1 su x quadro quando moltiplico 1 su x per 3 su x quadro viene 1 su x cubo quindi fa termini di ordine di superivazione quindi viene adesso questo lo chiamate t quindi viene 1 su x più 1 piccolo di 1 su x quadro poi poi ci verrebbe più t cubo sesti e diciamo il t cubo finisce una piccola di 1 su x quadro quindi qua avete 1 su x più o piccolo 1 su x quadro adesso cominciamo non è meno non è meno non è meno se ne per voi eh non ho cambiato quindi era sulla traccia più lunga eh esattamente ti ricordi ho fatto un'altra ulteriore correzione al test in cui c'ho messo più quindi questo questo se ne va adesso questo pi greco mezzi e questo 1 questo è meno 1 per pi greco mezzi se ne va adesso facciamo un piccolo aggiornamento senza cancellare perchè sennò ci vediamo ma ora sotto abbiamo pi greco mezzi per 1 su x quadro più termini di ordine superiore adesso sopra costanti non ce ne stanno termini di ordine 1 non ce ne stanno termini di ordine 2 c'è un meno 1 su x quadro fuori qua qua non c'è niente qua invece c'è 3 su x quadro che moltiplica meno pi greco mezzi quindi abbiamo meno pi greco mezzi per 3 su x quadro tutti tutti gli altri termini cioè questo e questo e questo sono piccolo di 1 su x quadro adesso per il principio di sostituzione di fidesimo questo si può trascorare 1 su x quadro si può mettere in evidenza e semplificare quindi il limite fa 1 più 3 di greco mezzi sopra vedete qua c'è meno 1 meno 3 di greco mezzi sopra e sotto c'è di greco mezzi volendo moltiplicare tutto per 2 su pi greco cioè semplificare mettere in meno evidenza viene meno 2 su pi greco più meno 2 su pi greco diciamo che più 3 sta tra parentesi quindi se lo vogliamo leggere senza parentesi meno 2 su pi greco meno ok vediamo finalmente qualche modo che il limite venisse finito è diverso da z o in verità nel testo originale qua nel logaritmo c'era x più 2 fratto x più 1 c'era x più 2 fratto x quadro più 1 allora in quel caso l'argomento tendeva a 0 da destra e il logaritmo tendeva a meno infinito quindi il numeratore tendeva a meno infinito quindi il numeratore tendeva a meno infinito quindi il numeratore tendeva a meno infinito il numeratore tendeva a 0 più quindi con quell'errore di testo che c'era in origine il limite sarebbe stato semplicemente meno infinito senza 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 dovessi preoccupare di tanto perché c'era allora qui c'era un pezzo no? era scritto logaritmo di x più 2 fratto x quadro più 1 fermo quello che io ho messo era questo poi ho corretto ma quello che c'era nella traccia originale era questo pezzo qua mentre tutti gli altri mezzi danno un limite finito poi eventualmente si semplificavano per dare un limite 0 e quindi per avere una forma indeterminata questo pezzo non dava limite finito ma ed x che tende a più infinito x fratto x quadro tende a 0 da destra il logaritmo tende a meno infinito poi c'era un meno davanti tendeva a più infinito poi c'era un meno più 3 mezzi fuori tendeva un'altra volta a meno infinito e quel termine non si rideva con nulla si divideva con una cosa che tende a 0 da destra vedete qua sotto e quindi se lasciavamo quell'errore cioè quell'altro resto il limite più semplicemente faceva meno infinito senza dover si preoccupare di dover fare il pianomenatore quindi in qualche modo veniva molto semplice però facciamo lo sto fare certamente è stato meglio studiare questo esercizio quindi nella traccia che abbiamo studiato noi il pezzo con logaritmo c'era logaritmo di x più 2 fratto x più 1 sempre con meno davanti e poi la parentesi chiudeva qua e invece il pezzo con il seno perbolico doveva portare il segno a più perché doveva portare il segno a più perché questo 1 su x dovrei cancellare questo meno 1 su x ok e va bene e quindi abbiamo fatto il limite cancelliamo o aspettatevi un limite insomma di questa portata è non più difficile ma niente più facile andiamo a fare esercizio numero 5 cioè l'integrale ma dobbiamo fare questo integrale improprio fare o approssimare o studiare vediamo se si fa allora limite scusate integrale da 0 a infinito il quadro della radice di x più 2 della radice di x più 2 scusate fratto x quadro più 1 questo integrale si fa senza problemi si fa senza problemi in questo caso ovviamente questo per quale motivo? allora questa funzione non ha problemi in 0 non ha problemi in realtà da nessuna cioè non ha mai finito da nessuna parte perché il denominatore non sa nulla mai nel dominio ma non sa nulla mai su E quindi per esempio per il x tende a 0 questa tende a radica 2 quindi non è una funzione che esplode da qualche parte è però un integrale indefinito questo scusate è improprio perché per x che tende a più infinito diciamo la funzione non è nulla fuori di un integrale quindi tende però a 0 come tende a 0 per x che tende a più infinito per x che tende a più infinito con una sola x sopra x quadro sotto quindi abbiamo radice di x sopra x quadro sotto quindi tende a infinito come x alla meno tre e mezzo x alla meno tre e mezzo sappiamo che è una funzione sommabile quindi sappiamo che x alla alfa è sommabile cioè che l'integrale viene finito quando alfa è minore di meno 1 siccome meno tre e mezzo è minore di meno 1 questo integrale viene finito rimane il problema se questo integrale si può calcolare si può calcolare naturalmente una cosa che non ho precisato ma insomma va quasi da sola è che la funzione integrale è una funzione positiva quindi questo integrale o viene finito o fa più infinito abbiamo appena stabilito grazie all'aggiornamento precedente che l'integrale è un numero positivo perché la funzione integrale è positiva però finita allora qual è la posizione da fare? la posizione da fare è radice di x più 2 uguale t banale quando c'è una solo una radice con sotto la radice un'espressione lineare bisogna portare l'abbiamo fatto quindi otteniamo x più 2 uguale t quadro quindi x uguale t quadro meno t in particolare quindi quindi questo cosa diventa si diventa l'integrale da 0 a più infinito questo perché scusate da radica al 2 perché quando x vale 0 t vale radica al 2 quando x invece va a più infinito anche la t va a più infinito quindi questo è il motivo per cui ho aggiornato gestiamo l'integrazione in questo modo adesso sopra ci devo mettere tutta la radice vale t e x abbiamo appena detto che vale 2 t e t mentre sotto devo fare t quadro meno 2 a quadrato più 1 e x era t quadro meno 2 devo fare x quadro più e niente qua non ci sono ulteriori facili sostituzioni da fare cioè se qua ci fosse stato t invece di t quadro chiaramente mi conveniva fare e porre t quadro uguale a una nuova variabile però stavo così quindi andando a sviluppare adesso il denominatore è una somma di quadrati quindi è sicuramente positiva quindi abbiamo t alla quarta facciamo solo il denominatore cioè sto sviluppando t quadro meno 2 al quadrato più 1 questo mi fa t alla quarta meno 4 t quadro più 5 allora questo lo possiamo scrivere come t quadro meno alfa t beta per t quadro per t quadro più alfa t se vi ricordate l'abbiamo fatto più volte questa cosa qui e ogni volta che mancavano i termini oppure se preferite potete trovare le radici con la b quadratica e quattro piatta però il metodo è più veloce ogni volta che noi sappiamo sicuramente che questa espressione non ha radici reali questa è una espressione di quattro gradi non ha radici reali perché se avesse una radice reale dovrebbe annullare questo polinomio ma questo polinomio sui reali è un quadrato più meno si può annullare quindi le radici sono quattro radici complesse sono due coppie di radici complesse con età però nell'accoppiarle mi daranno un polinomio di grado 2 questi polinomi saranno fatti così per quale motivo? perché semplicemente questa espressione qua quando la andiamo a moltiplicare la mia nulla siccome qua c'è meno qua c'è più se andate a sviluppare i termini di grado 3 meno alfa t cubo più alfa t cubo se ne vanno i termini di grado 1 meno alfa t beta più alfa t beta se ne vanno e quindi rimangono soltanto i termini di grado 4 che fa t alla quarta poi rimane il termini di grado 2 che fa più 2 beta meno alfa quadro più 4 vedete? beta t quadro meno alfa quadro t quadro e poi più beta t quadro e poi più beta t quadro quindi cosa otteniamo? otteniamo che questa quantità deve essere uguale a meno 4 e questa quantità deve essere uguale a 5 quindi troviamo beta beta uguale alla radice di 5 a e poi troviamo 2 radical 5 meno alfa quadro uguale meno 4 quindi alfa quadro uguale radice di 4 più 2 radical 5 quindi alfa uguale radice di 4 radical 5 a merita forse si può fare qualcosa con i radicali dubbi ma non è che ci interessa più ok ok ah ah vabbè quindi questa è una una diciamo la diciamo la una fattorizzazione di questo polinomio voglio sottolineare il fatto che beta qui dovete prendere la radice positiva che teoricamente qua potete prendere anche la radice negativa mentre qui quando vado a prendere la radice se prendo la radice positiva la radice negativa non succede niente perché semplicemente sto scambiando di posto questi due fattori per quanto riguarda beta devo prendere la radice positiva per quale motivo? perché se prendo la radice negativa questo polinomio ha il segno del primo termine positivo e poi in 0 errebbe negativo così come quell'altro quindi questo polinomio si annunerebbe due volte più reali cosa che non può essere perché questo polinomio non si annullava mai quindi per beta devo prendere la radice positiva è naturale diciamo è improbabile che faccia errori però non lo voglio sottolineare comunque fatto sta che diciamo mi conviene salvo i valori di alfa e beta perché poi mi serviranno dopo però però diciamo diciamo non mi conviene esplicitarli qui dentro perché diciamo occupano sicuramente più spazio e danno più possibilità di errore quindi io la funzione integranda ho t quadro fratto t quadro meno alfa t più beta fratto t quadro meno alfa t più beta E' più c t più d fratto t quadro più alfa t Allora determiniamo le costanti a grande, b grande, c grande e t grande quindi qua mi viene qua mi viene facciamo vedere i termini di ordine t cubo qua mi viene l'unico termine di ordine t cubo a sinistra viene a t cubo quindi a t cubo più c t cubo deve fare zero infatti noi sappiamo i termini di ordine t cubo 3 qua non ci sta qua andiamo a vedere i termini di ordine 2 qui viene a alfa t quadro più b t quadro quindi viene a alfa più b più c meno c alfa più d quindi meno c alfa più d e questo deve fare lui qua andiamo a vedere i termini di ordine 1 a beta più b alfa vediamo a beta più b alfa vediamo a beta poi qua abbiamo più c beta meno b alfa più c beta meno b alfa questo deve fare zero e infine e infine b beta quindi b più d deve fare zero allora siccome a più c fa zero ampi a beta più c beta lo posso cancellare e quindi semplificando alfa trovo che b è uguale a d ma siccome b più d fa zero entrambi fanno zero allora trovo che a uguale a meno c poi trovo 2c alfa d e t fanno zero quindi questi si possono togliere quindi trovo meno 2c alfa uguale a 1 quindi c uguale a meno 1 su 2 alfa e a ovviamente uguale a più 1 su 2 alfa quindi in realtà qui abbiamo 1 su 2 alfa qui abbiamo a uguale a 1 e c uguale a meno 1 oppure meno avanti infatti quando adesso fate questa somma viene t quadro più alfa t più beta meno t quadro meno beta se ne va meno meno alfa t fa 2 ah si perché mi sono dimenticato la t fa 2 alfa t allora moltiplicando per t e dividendo per 2 alfa fa t quadro fratto questo problema quindi abbiamo è uguale uguale 2 eh poi per 1 su 2 alfa quindi in totale viene 1 su alfa e moltiplica vabbè la cosa non serve legato a 0 tra la t da 2 e più finito e cosa? t t fratto t quadro meno alfa t più beta meno t fratto t quadro più alfa t meno t t t ok allora innanzitutto qua consentitemi di moltiplicare e dividere per 2 poi qui vorrei far comparire la derivata del denominatore facciamola comparire qua ci mettiamo meno alfa qua ci mettiamo più alfa e però poi dobbiamo compensare quindi qua abbiamo più alfa fratto t quadro meno alfa t più beta e poi abbiamo a più alfa fratto t quadro più alfa t quindi vedete qua il 2 è venuto perché ho diviso e moltiplicato per 2 poi qui ho sommato meno alfa fratto questa quantità e ci devo per compensare devo mettere più alfa fratto questa quantità poi qua ho meno alfa fratto questa quantità e quindi qua ci dovete più alfa fratto questa quantità adesso che devo fare? allora qua devo fare cominciamo a valutare il primo pezzo il primo pezzo è l'integrale tra 0 e più infinito il primo pezzo di 2t meno alfa fratto t quadro meno alfa t quindi meno 2t più alfa fratto 2t più alfa sempre radical 2 adesso adesso l'integrale di questo è il logaritmo del denominatore perché diciamo ho fatto in modo tale che il numeratore fosse la derivata del denominatore quindi quando derivo il logaritmo del denominatore viene 1 fratto questo per la derivata di questo che è il fattore del denominatore e la stessa cosa dall'altra parte quindi qua mi viene logaritmo di t quadro meno alfa t più beta meno cioè logaritmo di t quadro più alfa t beta valutato tra radical 2 e più minito la differenza di logaritmo uguale a logaritmo del rapporto allora notate che non li posso separare perché se li separassi i due integrali farebbero uno più infinito e l'altro meno infinito questi convergono soltanto perché stanno accoppiati allora una volta che però ho scritto questa primitiva questa valutazione deve intendere come limite perché l'integrale è improprio però per t che tende a più infinito t quadro fatto t quadro va 1 quindi questo argomento del logaritmo va 1 quindi il logaritmo di questa quantità sparisce rimane diciamo da valutare tutto questo quando t uguale a radica 2 quindi mi viene meno oppure logaritmo del reciproco del reciproco che è la stessa cosa quindi viene t quadro fa 2 più alfa radica 2 più beta fratto 2 meno alfa radica 2 quindi ho semplicemente sostituito il radica 2 al posto del t qua c'è il meno davanti il meno davanti fa sì che l'argomento del logaritmo sia quindi e qua dovete semplicemente sostituire i valori di alfa e beta per vedere quanto viene ok? va bene adesso dobbiamo fare l'altro gli altri due integrali qua dobbiamo fare dobbiamo fare iniziamo a fare l'integrale di tra radical 2 e più infinito di alfa fratto uguale meno alfa t più beta più alfa fratto uguale meno più alfa allora questo lo posso scrivere come alfa in evidenza integrata tra radical 2 e più infinito qua ci posso scrivere uno fratto uguale meno alfa t uguale uguale scusate t meno u meno alfa mezzo al quadrato più gamma 4 allora più uno fratto t più alfa mezzo al quadrato più gamma 4 ora alfa è perché l'ho messo in evidenza t meno alfa mezzo perché poi voglio completare questo quadrato ma gamma 4 quanto fa? gamma 4 non fa altro che beta meno alfa quadro quattro e anche qui se mi dite un attimo quanto faceva beta quattro vedete era radica 5 invece alfa quadro era due era quattro più due radical 5 era quattro più due radical 5 questo è alfa quadro quindi quattro più due radical 5 senza nulla giusto? quindi qua mi viene radical 5 mezzi questa è radical 5 mezzi meno si è fatto meglio vabbè poi i valori di un progetto a comunque comunque quindi qui quanto mi viene? uguale alfa allora facciamoli separatamente perché sennò ci impicciamo cominciamo a fare l'integrale tra radical 2 e più infinito di 1 fratto t meno alfa mezzi al quadrato più gamma 4 questo è uguale t meno alfa mezzi dobbiamo gamma y quindi mi viene dt uguale gamma dy quindi mi viene integrale qui sotto viene gamma dy poi sotto viene gamma quadro per 1 y quadro e devo aggiornare gli estremi allora per t che fa più infinito y non va pure a più infinito invece per t uguale radical 2 qua viene 1 y uguale a 1 su gamma e radical 2 meno alfa questo è l'estremo basso quindi alla fine mi viene viene 1 su gamma per l'arco d'angente di non valutata tra infinito e 1 su gamma per radical 2 meno alfa mezzi quindi alla fine viene 1 su gamma quindi y mezzi meno arco d'angente radical 2 meno alfa che è 1 su 2 qua viene 1 su gamma per qua ci devo mettere questo valore no? l'altro l'altro similmente verrà 1 su gamma per y mezzi meno arco d'angente di 1 su gamma radical 2 più alfa mezzi questo sarebbe l'altro integrale per il semplice fatto che lì l'aggiornamento del diciamo la posizione da fare è t più alfa mezzi uguale a gamma x il resto è tutto uguale quindi tutta sta roba qui viene alfa su gamma che moltiplica la somma cioè di greco meno arco d'angente di 1 su gamma radical 2 meno alfa mezzi meno arco d'angente di 1 su gamma radical 2 quindi dovete sostituire il tutto per fare la somma che diceva qualcuno 50 anni fa è la somma che ha fatto dato non mi va di perdere altro tempo naturalmente una volta sostituiti i valori numerici si possono fare dei controlli per vedere se abbiamo fatto tutto bene e qui diciamo in linea di massima innanzitutto per esempio se faccio il quadrato di questo questo è sicuramente più grande insomma vediamo un po' per esempio vediamo un po' se radisce insomma si possono fare delle maggiorazioni e stimare l'integrale in maniera abbastanza precisa e quindi almeno in genere se uno fa degli allori altera abbastanza il tutto l'integrale quindi andando da confrontare con un'approssimazione discreta del valore numerico dell'integrale si possono fare i controlli che dicevo prima però adesso ci vuole tempo non ho intenzione di farlo non ho intenzione di farlo